Cosa è al fine mandato suo? Lei si ricandida d'acqua al sindaco? Assolutamente no, credo di aver fatto la mia parte in tutti questi anni di attività, quindi è giusto che ci siano altri cittadini che si prendono in carico alla gestione amministrativa del comune, che probabilmente potrebbero avere anche maggiore energie rispetto a quello che ho potuto produrre io, e quindi è giusto che ci sia anche un cambio generazionale nell'attività amministrativa della nostra comunità. Noi abbiamo attivato alcune procedure di risanamento, anche attraverso delle misure straordinarie che siamo state autorizzate dal Ministero degli Interni, e quindi chi verrà dopo di me riceverà sicuramente dei debiti, ma sono stati diluiti nei prossimi vent'anni, per cui il comune non sarà soffocato dai decreti ingiuntivi e dai debiti che ci sono. Lei quando l'ha preso questo comune era in dissesto? Era in dissesto di bilancio già con decorrenza del 1 gennaio 2017. Il dissesto formalmente dal punto di vista procedurale è terminato al 31 dicembre del 2022, però teniamo conto che nel periodo della mia amministrazione abbiamo dovuto superare i due anni di Covid amministrativo in tutta la comunità nazionale, quindi la difficoltà del Covid. Subito dopo c'è stata la guerra in Ucraina che ha creato non pochi problemi sul rialzo dei prezzi, delle tariffe e anche dei beni di consumo, che ci hanno creato, come dire, ulteriori problemi amministrativi. Ma con tutte quelle difficoltà, e poi c'era anche la difficoltà che dipendeva dalla mancanza delle risorse umane, quindi noi ancora oggi non abbiamo pubblici dipendenti apicali impiegati a tempo indeterminato, stiamo lavorando con i 110 e questo significa che non c'è una continuità amministrativa negli anni, quindi abbiamo bisogno anche della memoria storica che stiamo cercando di ricostruire e di consegnarla alla futura amministrazione. E così parla di candidati di fisindaci, ecco... Non entro nel merito. E come se sarà veramente quella prima volta che c'è un sindaco donna... Saranno i cittadini a decidere, io non entro nel merito, io fino all'ultimo giorno dell'attività amministrativa lavorerò per il bene della città e poi i cittadini con il voto decideranno chi sarà il nuovo sindaco di Gioia Tauro, uomo o donna che sia. Ecco, questo è un paese ad alto rischio di Andrangheta, ecco... Nella sua amministrazione Andrangheta non c'è entrata, ecco... Qual è il segnale che lanciamo? Il segnale che do, è il consiglio che do a chi verrà dopo di me, è di mantenersi sulla strada della legalità e della trasparenza amministrativa. Attraverso questo percorso nessuno dovrà da temere nulla.